Sì, ci troviamo nel castello che ha millenni ovviamente di storia da raccontare, dove un nostro amico, Raffaele Russo, presidente della protezione civile di Taranto, sta organizzando la 32esima edizione della mostra internazionale d'Italia a Taranto con l'alto patrocino del capo dello Stato. Le mure del castello, magari le possiamo soltanto inquadrare, più o meno se ci riusciamo, sono tali, 8 metri di larghezza da cui sono tali che non riusciamo a entrare all'interno, dove ci sono delle fotografie meravigliose, ma domani in diretta tramite il nostro canale sul digitale terrestre, il canale 212 di Viene, durante la trasmissione e l'opinione ovviamente avremo il nostro ospite, Raffaele Russo, con le foto che sono risultate vincitrici e che sono veramente delle foto molto belle. Già che siamo qui, vi raccomando, raccontiamo qualcosa di questo castello, possiamo vedere, se riusciamo a vedere sull'arcata di fronte, magari ti accompagno, su questa arcata ci sono addirittura l'amiraglio Ricci che ha preso a cuore le sorti di questo castello, ha fatto stonacare completamente questo muro e riusciamo a intravedere adesso degli archi, degli archi piccolini, che sono le vecchie prigioni dove addirittura veniva imprigionato il conte Dumacchi, ci dicono che non possiamo riprendere e quindi ovviamente ritorniamo un attimo adesso nel discorso della mostra e vi parleremo anche degli altri ospiti che avremo domani in trasmissione dove affronteremo i suoi argomenti di attualità in cui ognuno potrà esprimere la propria opinione e ovviamente le rubiche sulla genealogia e su 21 grammi il peso dell'anima. A te Gitt. Grazie, grazie, grazie. La mando in onda, siamo già sul vostro canale, sul canale di Arti Taras e poi ho preparato un altro video e lo unirò a questo. Grazie. Ci vediamo domani. Ok, ciao. Ciao, grazie, ciao. Bene, siamo pronti. Prego. Sì, abbiamo fatto una presentazione che ci sono in testa. Sì, da fuori. E qua è in diretta se c'è fuori. Siamo in diretta, siamo. Prego. Possiamo andare? Vai. Sì. Allora, vai, Vanni. Sì, allora, siamo qui con Raffaele Russo, vi abbiamo prima parlato di questa grandissima manifestazione a 32esima edizione di mostra fotografica l'Incaglia Taras e qui con noi Raffaele Russo. Allora, questa mostra, come al solito, ben riuscita, già i premiati, bellissime fotografie. Sì, è un'impresa che continua la nostra e forse 32 anni fa non pensavamo di arrivare alla 32esima edizione. Noi continuiamo a promuovere la fotografia e a chiedere a tutti i fotoamatori, non solo quelli tarantini, ma quelli nel circuito dei fotoamatori italiani, di mandare le loro fotografie che poi costituiscono questa mostra fotografica nazionale fatta appunto da persone che sono vicine al mondo della fotografia che è un'arte... Domani ne parliamo in trasmissione durante l'Opignone 21-23 e qui con noi anche l'attore Mimmo Campo, però diamo un'occhiata all'interno della mostra del Castello Aragonese, qualcosa riusciamo a vedere, ma domani con Raffaele Russo, Mimmo Campo e tutti gli altri ospiti ne parleremo approfonditamente. A domani. Grazie di questa diretta, grazie, a domani. Ciao, a domani. Ciao, ciao.